Benvenuti e bentornati Benvenuti e bentornati da Riccardo Borgio con questa nuova puntata di Sporting Club dove andiamo ad analizzare tutte le sfaccettature del mondo dello sport anche in emergenza, coronavirus che stiamo vivendo ormai da più di due mesi, ormai tre e lo sport riparte o meglio tenta di ripartire, si discute ancora sul rinizio del campionato di Serie A ma comunque di tutti i campionati all'interno. A livello internazionale e si discute della ripartenza dello sport in generale ma un lato dello sport non è da sottovalutare ovvero il progresso, l'evoluzione tecnologica che c'è stata, penso a lavare nel calcio, l'occhio di falco nel tennis, quindi c'è anche un'evoluzione in merito sportivo a questo anche in questo periodo. E per parlare proprio dell'evoluzione sportiva e di un nuovo progetto che sta nascendo ho in collegamento Skype Walter Barberis responsabile Metric Up. Buonasera. Buonasera Riccardo. Ecco Walter partiamo intanto da un commento sulla situazione, lo sport sta ripartendo ormai dall'8 maggio ma comunque più in maniera più radicale dal 18 si riparte con lo sport, com'è la situazione e gli sportivi come arrivano a questa situazione? Beh è una situazione molto particolare, noi eravamo pronti per fare tutta una serie di attività sul campo e ci siamo trovati in quarantena e anche i giocatori hanno bisogno di riprendere velocemente e a questo ci viene incontro la tecnologia, ovviamente dobbiamo accelerare un po' i tempi però recupereremo presto questi messi che abbiamo perso sia di allenamento che di misurazione degli allenamenti. A noi ci servirà molto per poter capire cosa è successo con i giocatori che prima venivano monitorati nelle loro partite e anche nei loro allenamenti e vedremo adesso che cosa è successo dopo questo periodo di fermo quindi per noi avrà anche un piccolo vantaggio poter confrontare se le misurazioni sono ancora valide. Certo, ecco parlando proprio del lato tecnologico dello sport, di tutto lo sport sia a livello calcistico ma anche su altri terreni di gioco come prima c'è l'occhio di falco nel tennis, la VAR nel calcio ormai consolidata ecco spiegaci un po' la vostra realtà della Metricup e soprattutto come coniugate la tecnologia allo sport. Ecco noi diciamo sono parecchi anni che siamo sul mercato dal 2013 e Metricup è una realtà nuova però figlia di SpaceX è una società consolidata nel mercato dello sport e ci siamo concentrati su qualcosa che nel mercato in questo momento non c'è che è il real time. Cosa succede con un allenatore fisico, con un preparatore atletico durante la partita? Che cosa deve vedere? Che cosa può calcolare o può monitorare delle prestazioni fisico-atletiche dei giocatori? Noi stiamo parlando di diciamo l'aspetto ludico, l'aspetto più divertente su cui si vede molta molta tecnologia a livelli veramente altissimi e noi ci siamo concentrati sugli aspetti più tecnici, quindi le prestazioni dei singoli giocatori, le prestazioni della squadra e tutto questo grazie a una tecnologia che proviene diciamo dalla misurazione geologica. SpaceX ha lavorato molto sul monitoraggio delle frane dove le misurazioni sono molto precise, devono essere veramente accurate e quindi questa stessa tecnologia è stata riportata sul mondo dello sport. In questo momento diciamo quello che stiamo facendo con Metricup è un passaggio, un upgrade a una soluzione che si chiamava Wear per monitorare i calciatori con un piccolo sensore collocato su una pettorina sulla schiena del giocatore e adesso lo abbiamo trasformato in una nuova soluzione che si chiama GLF, Geolive Football, che punta sul real time. Tutte le soluzioni più diffuse fanno ovviamente analisi delle prestazioni dei giocatori, post-processing quello che si chiama. Noi ci siamo concentrati sul real time, cosa serve durante la partita per prendere una decisione? La geometria della squadra è importante, il baricentro della squadra sono importanti, le prestazioni dei singoli giocatori sono fondamentali e questo grazie a un dispositivo nuovo, diciamo l'evoluzione del dispositivo precedente che permette di trasmettere grande quantità di dati al secondo, di elaborare questi dati in velocità e di riportare su una dimensione molto semplificata i dati che possano essere un colpo d'occhio per il preparatore fisico, per l'allenatore, per poter prendere una decisione in quel momento. A bordo campo stiamo parlando. Perfetto, diciamo che prima si raggiungeva questo livello magari durante un allenamento e poi si analizzavano i risultati di quell'allenamento, di quella prestazione, invece adesso cambia tutto quindi si analizza nel dettaglio la partita, magari il posizionamento dei giocatori, quanto sforzo fa quel giocatore e come si muove in campo quel giocatore e quindi di conseguenza ci si regola in campo e in live, come dicevi tu prima. Sì, 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 assolutamente. Rimangono sempre in piede tutte le elaborazioni post-processing perché i dati una volta che li abbiamo raccolto durante la partita poi vengono elaborate con calma, con il dettaglio e fatte molti altri calcoli. Sono quasi 50 indicatori che possono essere calcolati post-processing mentre sulla partita ne sono 3-4 a seconda dei requisiti. E si calcolano tipo la potenza metabolica, non solo la velocità o il posizionamento dei giocatori ma abbiamo anche sensori sempre più raffinati, sempre più sofisticati che ci permettono di misurare veramente per ogni singolo giocatore tante tante condizioni fisiche e atletiche anche riferito al resto della squadra rispetto al campo. Ecco, io penso comunque che negli anni sicuramente c'è stata un'evoluzione del mondo del calcio o comunque del mondo dello sport, penso alle partite degli anni 80-70 dove il gioco era nettamente più lento i calciatori non erano tra virgolette, sì erano considerati atleti ma non erano considerati atleti come oggi l'impatto del fisico, della prestazione fisica e sicuramente della velocità di gioco che è cambiata nettamente negli anni quindi questa ulteriore evoluzione cambierà un po' il modo di giocare a calcio ad esempio anche evitando infortuni, penso a evitare errori tattici, tecnici, insomma ci sarà anche un'evoluzione del calcio da questo punto di vista? Sicuramente sì, confermo che c'è stata un'evoluzione sia nella velocità, nella forza, nei parametri di prestazione fisica. Noi molto spesso andiamo a studiare la letteratura e prendendo già documenti di 10-15 anni fa sono saliti i parametri, le velocità massime, la resistenza sono aumentate e aumentano anno a anno quindi parliamo di squadre femminile, parliamo di squadre maschile, tutte e due sono incrementate come prestazioni oggi una squadra femminile che di solito ha delle soglie leggermente più basse sono molto ma molto più alte di una squadra maschile di 15 anni fa quindi è un'evoluzione continua, il gioco è sempre più veloce ma è sempre più strategico spostare un giocatore all'interno della partita o darle un'indicazione precisa è fondamentale è questione anche di tempo per chi prende decisioni dal bordo campo Anche perché molte volte vediamo interventi da parte dell'allenatore potrebbero rimettere giocatori dalla panchina e poi il gioco della squadra cambia radicalmente rispetto a quello che si è visto pochi minuti prima quindi la tattica sicuramente ha un impatto fondamentale sul gioco del calcio e sicuramente l'aiuto della tecnologia potrà avere anche nel futuro con un'evoluzione sempre più importante un impatto fondamentale Sì, 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 c'è un elemento che l'occhio non vede l'occhio dell'allenatore e del preparatore hanno l'esperienza questo nessun algoritmo lo potrà fare però l'algoritmo ha la storia e quindi io so un giocatore in quel momento secondo gli ultimi allenamenti, secondo le ultime partite in quale valore si trova e questo non lo vede l'occhio perché vede il presente però noi riusciamo a vedere anche un pochino indietro e fare una visione più alargata, più complessiva per prendere decisioni e anche in altri sport, non solo nel calcio stiamo provando anche sul rugby che è notoriamente più forte ha dei movimenti molto diversi e anche lì gli strumenti, la misurazione è sempre molto valida è di grande aiuto per chi deve prendere una decisione dal bordo campo Assolutamente Ecco, io mi stacco un attimo dal calcio o comunque dal rugby professionistico penso a tutte quelle leghe dilettanti o comunque le scuole calcio che magari la tecnologia potrà aiutare potranno aiutare allo sviluppo di un futuro campione oppure magari allo scouting quindi i procuratori potranno magari accedere a questi dati per valutare come un ragazzo si è evoluto nel tempo e ha migliorato magari la sua prestazione sportiva Sì Riccardo, quello è il nostro prossimo step noi stiamo puntando molto al pre-professionista quindi a tutti quei ragazzi che stanno oggi nei primi scalini del calcio e a chi li guarda da fuori quindi un procuratore può conoscere non solo quello che vede ma anche le prestazioni fisiche di questo giovane se è promettente o non promettente rispetto agli altri quindi vedere il giocatore in campo è importante ma avere i dati raccolti nel tempo è anche un dato molto valido per vedere se c'è le condizioni o meno Certo, questo penso che cambierà anche un po' la valutazione anche magari del giocatore che in quel momento ha magari una prestazione positiva e si analizzano un po' tutti i vari fattori per rendere poi quell'analisi di quel ragazzo anche della scuola calcio più completa per il suo allenatore, per il procuratore e per il suo futuro soprattutto Sì, possiamo dire che eliminiamo le brutte giornate anche i giocatori hanno delle giornate in cui non sono particolarmente prestanti ma questo non vuol dire che la persona non sia prestante che il giocatore non sia più prestante di quello che ha mostrato in quella partita quindi vedere una, due partite, tre partite non è sufficiente a conoscere come gioca ma ancora di più, quali sono i suoi potenziali perché se noi riusciamo a valutare come facciamo oggi la crescita di un giocatore nel tempo in sei mesi possiamo anche stimare come quel giocatore si andrà a sviluppare nel tempo quindi possiamo anche ipotizzare tra virgolette, uno scenario futuro qual è il potenziale di quella persona non solo quello che si vede ma quello che si potrebbe vedere tra qualche anno Certo, anche perché oltre a un'analisi un po' della tattica di una partita si può analizzare anche durante le partite stesse ma anche gli allenamenti proprio a livello fisico quindi utilizzare questa tecnologia magari per allenatori che vogliono migliorare il proprio metodo Sì, un altro elemento importante è che oltre al giocatore c'è la squadra quindi un bravo giocatore che ha talento ma non sa giocare in squadra e di professionisti ne conosciamo tanti quando sono davanti a una partita cruciale non danno il massimo quindi poter valutare le prestazioni individuali ma anche le prestazioni rispetto all'insieme rispetto alla squadra sono valori che noi possiamo misurare ma non parliamo di fantascienza parliamo di dati diciamo concreti misurabili con delle soglie con matematica e statistica messe insieme quindi sono cose molto reali Ecco, parlando invece del lato imprenditoriale dell'evoluzione che avete avuto negli anni voi comunque mi hai detto insomma prima che questo progetto è comunque un progetto nuovo in evoluzione questi tre mesi di lockdown hanno comunque fermato diverse realtà sul territorio sia a livello sportivo sanitario o comunque imprenditoriale ecco come si esce a livello di sviluppo da una situazione del genere? Noi ci siamo trasferiti ciascuno a casa sua abbiamo fatto il lockdown a pieno ritmo non abbiamo smesso di lavorare per fortuna siamo come dire digitali tutti e quindi abbiamo puntato a quello che si può fare per emergere il prima possibile di questa situazione non abbiamo le partite di calcio non possiamo fare le partite di rugby non possiamo fare la misurazione della corsa ok quindi abbiamo lavorato molto per fare una serie di soluzioni o di servizi che vanno a incontro a questo momento ad esempio le persone che hanno problemi di sindrome metabolica che sono tanto diffuse in Europa e che ormai le conosciamo benissimo sovrappeso obesità poca attività fisica fumo cattive abitudini alimentari queste persone hanno bisogno di tenere un'attività fisica controllata in più adesso bisogna essere prudente nel distanziamento sociale quindi avere uno smartwatch avere un telefono uno smartphone che mi consiglia che mi guida che mi dice se sto mangiando bene se sto facendo l'allenamento bene e che mi controlla tra virgolette se sono un posto adatto se vado al parco giusto e che comunica anche con un medico se lo desidero queste sono nuove soluzioni che nascono da un momento di crisi il momento in cui noi non possiamo fare le partite ma la tecnologia e la struttura è funzionante deve continuare a fare delle cose deve continuare a produrre certo quindi diciamo ci si adatta un po' al momento che stiamo vivendo come magari alcune aziende ecco si sono adattate nella produzione di mascherine piuttosto che di altri presidi che prima magari non trattavano sì noi abbiamo fatto un piccolo scostamento laterale non ci siamo come dire reinventati quindi erano progetti che erano già diciamo nel casetto che non avevamo mai avuto la possibilità di svilupparli e in questi mesi abbiamo avuto il tempo di pensarci bene e di lavorarci bene quindi sono i nostri prossimi progetti che verranno alla luce non diciamo per fine anno penso che già saranno operativi ecco te lo stavo proprio per per chiedere insomma dopo la ripartenza dello sport ma anche della vita quotidiana avete in mente comunque dei progetti specifici anticiparci magari qualcosa se avete qualcosa in mente sia riferito come dicevi tu prima alla salute quindi al monitoraggio della salute riferita anche all'attività fisica ma anche ad altro sì per noi è molto importante diciamo non perdere il collegamento tra attività sportiva e salute attività sportiva e benessere sono un po' le basi che hanno fatto creare questa nuova società Metricup non è solo lo sport diciamo di chi lo fa in modo agonistico ma anche di chi lo deve fare per una questione di salute e sono tante le persone che devono fare un po' più di sport e quindi ci stiamo pensando a questo tipo di soluzioni legando lo sport con altri vantaggi e per il nostro futuro non possiamo non pensare alle nuove tecnologie e quindi cominciare già a sviluppare le soluzioni che siano compatibili con il 5G che sta arrivando e non possiamo diciamo ignorarlo o un'altra innovazione è quella dei dati di geopossessionamento grezzo voglio essere troppo tecnico però diciamo è un passo avanti molto importante di come arriveranno i dati del GPS nei nostri telefoni cellulare da qua a poco tempo quindi essendo anche molto legati al mondo dello spazio no questo tipo di informazione questo tipo di tecnologia noi ci diciamo ci aiuta a guardare un po' in avanti perfetto perfetto assolutamente e l'evoluzione comunque ci deve ci deve assolutamente essere soprattutto in questo momento di ripartenza dove si riavvia un po' un po' la macchina e si deve diciamo un po' subito tornare alla normalità io ti ringrazio Walter per comunque averci esposto il mondo dello sport sia amatoriale sia a livello professionistico da un altro punto di vista quindi non tanto dal punto di vista dello sportivo in campo ma dall'analisi di cosa lo sportivo compie nel campo di gioco grazie a voi per questa opportunità di poter presentare questa nuova realtà imprenditoriale questi servizi che speriamo metterli in campo il prima possibile assolutamente chiamiamo le dita ma anche per la ripartenza che ci potrà essere ringrazio appunto Walter Barberis per averci un po' parlato del mondo che unisce tecnologia e sport continuate a seguirci sul canale 264 del digitale terrestre e l'informazione di Radio Cusano TV Italia continua a